Lui è partito? Prima Prima Sì, e voi partite proprio sotto Infatti tu arrivi su e lui è slittato Invece lui è mortissimo Per me è riuscito Io vedo che quando vai su e arrivi su Una volta la slitta Invece lui arriva su e il gas chiuso 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 Però adesso ho visto Lui scende su quei due la Non scende su questo qui Eh troppo C'è li ho sposti davvero Riesci a A zero